Il cadavere di Benjamin Blake lo trovarono dopo quattro giorni di ricerca, esempelito sotto tre cose di un tre di terra, vicino al fiero. Il docco esaminò e poi disse che Benjamin era molto sfocato, probabilmente era stato sopporto vivo. Il docco è un po' di più, perché il docco è un po' di più, che non mi diceva il rispondo, non mi ha fatto il rispondo. E io, a me va a pronunciare, questo è un po' di straccia, e io, che sono io, che sono io, non sono io, e io, che sono io, che sono io, che sono io, e io, che sono io, che sono io, che sono io, che sono io. Grazie a tutti Grazie a tutti